Si commentano da sole, non le porterò come a home Sempre in cielo sto comprando cose, 20.000 nella bad bouton Oh my god bro 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 This nigga is trash This nigga is trash Questo è negro E' trash E' trash Dio Bono Se non è Richard Mille Non lo porti in hotel Giusto? Si Mamma mia Mi è venuto nervoso Mi è venuto nervoso de la madonna Mo' ora sono incassato bianco E voi? E che ne pensate di questo? Questa spassatura qui, che ne pensate? Lasciate un commento e ditemi che ne pensate In mia opinione Questa è una merda Questa canzone Fa cagare a cazzo Spassatura totale Oh mio dio Bro Incredibile Mi viene da mangiare tutto quello che trovo Ma sono nervoso Ma come Ma come si fa Come si fa A cantare una cosa di genere? Come si fa A ascoltare una cosa di genere? Bro Come si fa C'è Inaccettabile Inaccettabile Grazie a tutti